Istola alla mano fecero irruzione in una sala slot di trani aggredendo un dipendente ed impossessandosi di 3.500 euro in contanti. Adesso due dei quattro componenti della banda sono stati identificati a seguito di una lunga indagine condotta dai carabinieri. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza interne all'esercizio pubblico, ma anche le diverse foto postate sui loro profili Facebook. Si tratta di due incensurati baresi di 22 e 33 anni, arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custola cautelare agli arresti domiciliari e messa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della procura locale. I fatti risalgono al 14 gennaio scorso, quando in piena notte quattro persone assaltarono la sala scommessa Bar Fadò di via Barletta, malmenando un dipendente e minacciandolo con la pistola, per poi svaliggiare la cassa e le slot machine installate. La drammatica sequenza della rapina, durata meno di un minuto ed interamente ripresa dalle telecamere a circuito interno, è stata studiata nei minimi dettagli dagli inquirenti. Dalle immagini si vede uno dei malviventi entrare a viso scoperto nel locale poco prima dell'irruzione, fingendosi un normale cliente per studiare i movimenti delle persone presenti. Dopo il breve sopralluogo, lo stesso uomo torna alla sala scommessa, seguito da tre individui incappucciati. La telecamera riprende i rapinatori mentre sfondano i vetri della porta d'ingresso e aggrediscono il dipendente, che nell'occasione riporterà una grave lussazione ad una spalla. Per poi fuggire dopo pochi secondi con l'incasso di giornata, è parte del denaro contenuto negli apparecchi elettronici, forzati con un piede di porco. Oltre quattro mesi di indagini hanno portato all'identificazione di due componenti della banda. In particolare, il 33enne è stato rintracciato attraverso accertamenti sulla targa della vettura usata per la fuga, mentre ad incastrare il 22enne sono state alcune delle immagini ottenute dai profili Facebook degli indagati. Entrambi dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata in concorso e lesioni personali.